Ben trovati da Finale Ligure, oggi siamo in compagnia di Davide Fieschi che è il proprietario dell'hotel Colibri che si trova appunto in zona fronte mare qui a Finale Ligure. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti, beato lei che effettivamente si gode questo panorama e questa attività. Siamo proprio vicini al mare. Ecco, volevo chiedere, la vostra struttura è una struttura diciamo per famiglie, è una struttura che comunque è aperta tutto l'anno? Siamo aperti tutto l'anno, siamo operativi per famiglie, operativi per biker, abbiamo il deposito per le biciclette, una mini-officina per qualsiasi cosa succeda e insomma siamo vicino al mare, siamo proprio in centro, uscendo dall'albergo si va direttamente dai negozi, è chiuso al traffico. Ecco, immagino avviate anche un parcheggio privato. Abbiamo un parcheggio, non tantissimi posti, 14 posti bisogna prenotare prima perché vengono subito prenotati e offriamo sia camera e colazione che mezza pensione, pensione completa, abbiamo buffet di verdure sia cotte che crude, buffet a colazione, sia di salato che di dolce, insomma cerchiamo di rendere un piacevole soggiorno alle persone che vengono da noi. Certo, oltre il mare qui a Finale Ligure che è comunque uno dei più belli di tutta la regione Liguria, con la spiaggia di Varigotti che è conosciuta praticamente ovunque, cosa offre Finale Ligure? C'è un'entroterra eccezionale, ci sono delle piste addirittura dal nord della Germania vengono a provare queste piste di bicicletta, di mountain bike, escursioni, abbiamo uno storico finalese eccezionale e ci sono tante camminate da fare. Ecco direi che è importante anche parlare delle rampicate perché queste diciamo in Liguria sono un po' le palestre di roccia per gli alpinisti durante il periodo invernale vengono qui a diciamo ad allenarsi per poi cimentarsi durante il periodo estivo. Invernale e anche estivo. Anche estivo. Vengono in tutti e due i periodi, anzi diciamo che la mezza stagione è la preferita. È la preferita ecco. E offriamo, c'è una palestra di roccia conosciuta anche lì in tutta Europa e oltre al mare cerchiamo di offrire il massimo. Perfetto. Vogliamo aggiungere qualcosa sull'hotel? Ma noi è una conduzione familiare, ci teniamo alla cucina, ci teniamo alla clientela. Ecco, che tipo di cucina? Facciamo una cucina internazionale. Internazionale? E abbastanza piatti Liguri perché siamo qua. Certo. Vogliamo dare i dati per potervi contattare qui direttamente in hotel? Certo. Potete telefonare direttamente a noi allo 019 69 26 81 oppure direttamente sul cellulare al 333 216 39 27. Abbiamo anche la mail colibri.chiocciolacolibrihotel.it e siamo a vostra disposizione. Vi aspettiamo. Perfetto. Ringraziamo allora Davide Fieschi per averci concesso questa breve intervista. Vi aspettiamo tutti a Finale Ligure all'hotel Colibri. Da Finale Ligure appunto è tutto. A voi studio. Grazie e a presto.